Crisi energetica, bollette, super bonus su a gestione e conseguenze di questa gestione e famiglie sono i nodi su cui il PD ha lavorato dall'Abruzzo a livello nazionale. Michele Fina, che ne è il segretario regionale, così ha raccontato l'impegno profuso e i risultati ottenuti. Raccontiamo le nostre iniziative legislative, ma anche le oltre 110 iniziative e incontri sul territorio, gli oltre 10.000 km in giro per i nostri comuni. Ci siamo molto concentrati sui temi che riguardano la crisi dell'energia e la crisi delle famiglie, strette nella morsa tra inflazione e aumento delle bollette. Da questo punto di vista, naturalmente, ci siamo molto impegnati e ci impegnavo molto per superare i problemi del super bonus che ha creato questo governo, soprattutto per il disimpegno nello sblocco dei crediti, che mette a rischio mille imprese edili con tutto l'indotto solo per l'Abruzzo. E poi, naturalmente, il totale disinteresse della regione rispetto alla richiesta di 16 associazioni di categoria, sindacati, di iniziative che riguardano proprio il caro bollette, che invece sono tradite da questa regione, che è anche sleale, perché prima si impegna a stanziare dei fondi che poi non mette, mentre invece trova i soldi esattamente come il governo nazionale per le squadre di calcio di Serie A. C'è proprio un problema di priorità che in questa fase sono completamente sballate.